Sarà una lunga battaglia, questo l'annuncio del Movimento 5 Stelle a Montesilvano che apre un dossier sul caso della farmacia comunale. Un costo troppo alto per l'amministrazione Maragno che pensa di affidarla ad un privato e ad insorgere. Ci sono i grillini. Quello di oggi è praticamente una svendita al privato della farmacia comunale che dovrebbe invece essere inattivo e come nacquero le farmacie comunali essere posta in un quartiere popolare per agevolare le fasce meno abbienti della popolazione. I conti che ci hanno consegnato per confermare la loro tesi come maggioranza sono sbagliati. Sono dei conti che non sono supportati da delle valutazioni oggettive dei fatti e quindi non siamo sicuri dei conti che ci hanno presentato. Costi di gestione troppo alti, costi di affitto fuori mercato, di slocazione non strategica sono molti punti che non convincono il Movimento 5 Stelle. La farmacia comunale è posta in un luogo dove probabilmente non avrebbe dato fastidio ad altre farmacie private. Questo bisogna dirlo a chiare lettere. E paga degli affitti enormi per la sua collocazione geografica su Montesilvano. Paga 3.000 euro al mese. In quella posizione, oramai al centro di Montesilvano, in piazza di Azzi, gli affitti sono di 600 euro. Non capiamo come mai un locale di 100 metri quadri debba costare così tanto alle casse del comune e alle casse dei cittadini. Infine arriva anche la controproposta pensata per gestire costi e risorse. Anziché svendere la farmacia comunale al privato, poi affidandola a un privato che dovrebbe gestire un bene pubblico che il comune invece non essere in grado di gestire, quindi il privato sia il comune no, noi mettiamolo nei pressi del destetto sanitario per affiancarlo a questi centri di cure primarie che saranno aperti a H24 con dei medici di base e quindi con le ricette di questi medici del comune di Montesilvano, noi riusciremo a riportare avanti la farmacia comunale, anzi eviteremo quel passivo di quasi un milione di euro che oggi ci troviamo sulle spalle. Il sindaco sta facendo i conti della serva, in realtà su quello non ha torto e la farmacia comunale è in grave perdita.